Si è trattato di un'imagine abbastanza complessa e ci ha impegnato per qualche mese. Il tema che abbiamo affrontato in questa circostanza è relativo agli incarichi di collaborazione esterna che l'ente comunale di Terni ha conferito al prof. sinistra della Bia Romagna. Stessa procedura seguita per incarichi compiti dalle società partecipate pubbliche al 100% del Comune di Terni, Terni Rete e Formacia Termi Rete. Abbiamo trovato delle irregolarità a nostro avviso, avendo anche l'attora penale, uno scambio di conversazioni elettroniche che hanno preceduto gli atti comunali, quindi riteniamo che ci sia stata una esternalizzazione di un ufficio importante come di Terni a partito all'esterno e quindi poi i dettagli li daremo anche bene come già stato. Grazie.